Fatturato non serve un c***o, lavorate per i margini, non lavorate per il fatturato. Una volta misuravo per tanti anni fatturato, poi sono evoluto, sono passato il numero di pendenti, poi ho fatto un altro salto quantico, sono passato ai metri quadri di capannone. Sono tutte stupidate, tutte stupidate. Che conta è la ricchezza che generate con la vostra azienda e nelle vostre tasche. Fate questo salto di mentalità, quando arriverete qui e sarete a bordo cambia tutto, cambia tutto.